Il governo ha deciso di aumentare le bollette dell'acqua introducendo una nuova componente nella tariffa per andare a alimentare un fondo di garanzia che dovrà finanziare impianti idrici, retifoniari e depuratori che mancano nel paese e guarda caso questi laddove mancano o sono malfunzionanti esistono soprattutto nel meridione dove ci sono un sacco di infrazioni europee c'è il caso di Messina dove 10 giorni che gli abitanti non hanno l'acqua scoppierà il problema dei depuratori di Napoli e Caserta e quindi anche i cittadini del nord in particolare Veneti e Lombardo che negli ultimi anni hanno dovuto pagare un aumento delle bollette per finanziare gli impianti sul proprio territorio saranno costretti a subire un ulteriore aumento per finanziare degli interventi che verranno realizzati altrove soprattutto nel meridione.